Sono le 21.30 circa di venerdì 12 febbraio, quindi alla fine del quarto giorno dell'intervento e è stato un giorno un po' così, diciamo transitorio, nel senso che come ho detto stamattina la visione non era il massimo ed è stato un po' più o meno tutto il giorno così, ovvero vedo a chiazze, cioè come se avessi degli occhiali appannati su, che sono appannati sporchi, appannati in alcune zone delle lenti e questo fa da un senso di disagio, nel senso che gira un po' la testa, fa un po' effetto male di testa perché si fa fatica a mettere a fuoco ovviamente e vabbè così, non sento dolore, non sento particolare fastidio, un po' di fotofobia però se vedete adesso sono comunque in una stanza con piena illuminazione senza particolare dolore, gli occhi sono un po' arrossati come potete vedere, ma niente di particolare ho messo i colliri, ripeto non c'è né sensazione di punzecchiamento negli occhi né particolare sensazione di corpo estraneo, un po' sì perché è dovuto alla lente, alle lenti che ho negli occhi, però appunto il fastidio più grosso di oggi è stato questa difficoltà di vedere bene, sostanzialmente di mettere a fuoco, che si nota ancora di più perché nei giorni scorsi invece vedevo benissimo, avevo una vista estremamente performante e chiara e quindi oggi si è notato questo peggioramento, per sicurezza ho chiamato l'oculista al telefono giusto per raccontargli questa cosa, mi ha detto che è assolutamente normale, è sintomo che l'epiteglio, cioè lo strato sostanzialmente di pelle, quella pellicola che si forma sull'occhio che è stata rimossa per l'intervento, si sta ricreando e visto che quando si ricrea non si ricrea in modo uniforme, ma ovviamente in modo distribuito, le chiazze sono esattamente dovute a zone in cui l'epiteglio si è formato e altre zone in cui l'epiteglio non si è ancora formato e quindi c'è questa difficoltà di vedere bene. Dovrebbe andare tutto a posto nel giro di, penso, entro domani sostanzialmente, in questa notte, nelle prossime 24 ore al massimo, quindi conto che entro domani sera mi ritorni la vista buona, si riesca tranquillamente a mettere a fuoco e vedere bene e non ci siano neanche più altri particolari problemi, poi lunedì ci sarà finalmente la rimozione delle lenti e dovrebbe essere andato tutto a posto. Basta, questo era l'aggiornamento del venerdì sera, vediamo un po' domani come va. Buona serata a tutti, ciao ciao!